Oh guys, siamo live all'ultimo dell'anno, siamo in compagnia di Bull de Patisserie, che è un moscato buonissimo delle dinastie, io me le bevo un goccio, quando ero piccolo mi ricordo che la nonna del mio amico Davide Bollati diceva sempre Davide vieni a bere un po' d'aranciata e l'era moscata, quindi beviamoci un goccio di moscata alla salute, cominciamo adesso e facciamo una coding night Facciamo una coding night in cui andiamo a fare qualcosa di meraviglioso, adesso non so ancora cosa però ci penseremo, ci penseremo, faremo qualcosa di meraviglioso e lancieremo una start up in una notte Quindi stanotte io voglio uscire di qui alle 8 del mattino avendo lanciato una start up, bevendo moscato e facendo questa cosa qui folle che insomma andava fatta Quindi adesso vi metto, ciao Moni, grande Moni, super, Moni ci conosciamo da 2 milioni di anni, ciao Moni, ciao Moni, te lo scrivo qua Moni se vuoi ti invito, guarda questo è l'invito, lo metto pubblico, copy to clipboard, lo metto nella chat, qua tutti quanti possono apparire in questa chat, se volete entrate, ci facciamo gli auguri, vi collego e non ci sono problemi Adesso metto il link dappertutto, anche su TikTok perché voglio fare questa cosa qua, ci voglio creare qualcosa stasera, qualcosa di positivo a base di moscato Quindi moscato e poi pinot bruit, sempre le dinastie, sempre oltre popavese, però vediamo di creare qualcosa partendo da zero Facciamo brainstorming, facciamo brainstorming e cerchiamo di lanciare una start up in una notte, l'obiettivo di stasera è di arrivare domani mattina avendo una start up pronta da registrare e a registro imprese Quindi facciamo questa pazzia, datemi delle idee, se avete delle idee le sparate in chat, potete anche loggarvi e entrare nella video chat E facciamo questa cosa qua, adesso vi apro, vi condivido lo schermo, andiamo prima a scerare il link dappertutto Guarda, adesso lo vado a scerare su Facebook, dico se volete intervenire live ci facciamo gli auguri qua E intanto creiamo qualcosa, vedi? Allora, adesso lo vado a mettere su Facebook, vi condivido lo schermo Così vi faccio vedere tutto quello che faccio e non ci sono problemi E sarà una lunga notte di coding dove usciremo con una start up da lanciare Share screen, partiamo adesso, le bottiglie di vino non mancano e quindi possiamo partire Adesso andiamo su Facebook a sparmare un po' e diciamo, guardate, se volete questo è il link Allora, questo è il link, questo è il link Il link, se volete intervenire facciamo una one night start up Start up, lanciamo una start up, lanciamo un'idea Facciamo un MVP, lanciamo una start up Avete delle idee, guys? Adesso lo voglio pubblico Se avete idee, idee da realizzare Realizzare Ho bloccato tutto, ragazzi qua Adesso si è bloccato tutto Si è bloccato tutte cose Se avete idee da realizzare, proponetele che un altro croccio, Monica, vedi che combini Certo, è ovvio, ma è moscato, quindi fa zero gradi Quindi si può bere tranquillamente Abbiamo scelato qua Se avete idee da realizzare Loggatevi Accedete a questo link Accedete a questo link E ne parliamo Ok? Quindi, adesso ve lo pubblico Questo è il link Lo mettiamo anche su Start up Italia Facciamo condividi Start up Italia Che mi odiano già Mi odiano già Però condividi su un gruppo State guardando lo schermo E adesso condividiamo su Start up Italia E poi ci installiamo una Laravel E facciamo quello che vogliamo Facciamo quello che vogliamo Quindi, questo è il link Se volete, siamo qua Bene, allora Andiamo a vedere un attimino Che cosa possiamo fare Che cosa vogliete fare voi? C'è qualche idea? La parte che siete in due qua Comunque, io vorrei fare una cosa Io vorrei fare una cosa un po' social Tipo un Non lo so Un'idea potrebbe essere di fare un'applicazione Mi piaceva Mi è sempre piaciuto fare Avevo un bel dominio Che si chiamava Basket Map Siccome sono appassionato di basket Un'applicazione per organizzare tornei e partite di basket Quindi tutti i registri Trovi i giocatori intorno a te E vai a giocare a basket Può essere un'idea interessante Io partirei con quella Poi se vi vengono delle idee migliori Le facciamo Per cui stasera facciamo che lanciamo questa idea qua Basket Map No? Quindi Allora io vado qua sul mio register Dove ho primariamente registrato il dominio Quindi il dominio che voglio registrare Poi decidiamo che tecnologia usare No? Però intanto facciamo una landing In cui lanciamo questa startup Che si chiama Basket Map Ok? Quindi entro nella mia area register Entro nella mia area register E che cosa sto facendo adesso? La prima cosa abbiamo detto nei vari TikTok La prima cosa da fare quando si ha un'idea Logicamente è quella di assicurarsi un nome a dominio Io questo lo avevo registrato un po' di tempo fa Credo di averlo ancora qui Sì Basket Map Eccolo Non punta a niente al momento No? Nel senso andiamo a vederlo Però mi pare che Non punti a nulla Cioè Punta sul server corretto forse Però non lo sa il DNS Quindi Quello che farò io adesso Sarà di Entrare nella Entrare nel dominio Registrare molto veloce Nel propagare i DNS Quindi vado nella configurazione dei DNS E nella configurazione dei DNS In gestione avanzata Ho il mio A record Quindi quello che devo andare a modificare Io in Una file di configurazione del zone È sempre la record Perché la record è quella dove punta Il dominio primario Quindi a questo punto Basketmap.com Record di tipo A Indirizzo IP del server Quindi è già settato È già puntato Ok? Quindi quello che facciamo adesso È andare su Sul VHM Che è il nostro Control panel VHM che sta per Web Hosting Manager Quindi È Costa Perché costa 39-40 euro al mese Solo questo Però li vale tutti Cioè io è da Dieci anni che li pago 40 euro al mese Però posso dirvi ragazzi Che è l'acquisto più Essenziale che uno può fare Una volta che sono qui Dentro al mio VHM Create new account Vediamo anche un po' come funziona Sto VHM Il mio dominio sarà Basketmap.com Username Password Gli metto una password Chiaramente Gli metto una password Gli metto un'email Che sarà info Che ho C'è la basket Mab Basketmap.com E Gli metterò il linguaggio Che sarà italiano Automaticamente Detected Detected Gli abilito L'SPF Che è un Diciamo Un record Zona Che mi consente Di certificare Poi quando vado a usare L'email Un po' di più Il dominio In modo tale Che non Poi va a finire In spam lo stesso Però è una certificazione In più Per inviare email Poi il tramite Porta 25 Create new account Eccolo qua Lui adesso Ci ha creato Il nostro Basketmap Al punto Che io A questo punto Interori Se vado a basketmap Troverò ancora La pagina Suspended page Perché Devo rifresciare Le zone Nei miei dns interni Quindi svuoto Svuoterò 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 Farò prima Fare così Cioè Entro a questo punto Nel mio ViewHM Quindi faccio List Account Nel ViewHM Vediamo Che succede Intanto qua Nello streaming Listo Listo Il mio account Entro E vado Sulla Basketmap Ok Benissimo Non ho configurato Le domande No Non farmi fare Questa cosa Ti premio Allora Vabbè Il mio insegnante Si chiamava Mario Il primo animale Domestico Si chiamava Brutto Dio Un gatto Si chiamava Sboro Quindi Poi In quale città Qual è il nome Della testimonia Del tuo matrimonio Tito Il nono paterno Si chiamava Giuseppe Sapete Le mie domande Di sicurezza Quindi Attenzione A farne buono In live Queste cose qua Fanno sempre Paura Comunque Vabbè Al di là di tutto Quindi Adesso noi siamo dentro Al web hosting manager Siamo dentro al cpanel Il cpanel È un po' La nostra porta Beviamo ancora un goccio di moscato Perché alla fine Se no arrivare a mezzanotte È veramente dura E Il nostro Cpanel È un po' Tutto ciò Che noi Potremmo mai desiderare Per quanto riguarda Un hosting service Nel senso che abbiamo Tutto Il contrario di tutto Tra le cose interessanti Che abbiamo Abbiamo Un auto SSL Che ci consente Di installare Un certificato SSL Gratuito Per cui è vero Che pago 39 euro al mese Però è anche vero Che mi risparmio Di un SSL Poi ho un softaculous app installer Che mi consente Di installare Delle cose Tipo Io adesso voglio installare Una Laravel Che userò come Web service In questo caso Perché poi noi Questa startup qua La facciamo diventare Una landing page In cui raccoglieremo Gli iscritti E poi ci facciamo Un'app mobile Quindi facciamo Un'app in Ionic Utilizzando Ionic Su base angular E faremo un'app mobile Carina Per consentire alle persone Di iscriversi Di registrare Le proprie posizioni In maniera più Precisa Perché L'Ionic Ci usa La native background Geolocation E quindi ci senda La posizione corretta Del GPS E quindi io Vado a Rimini D'estate Voglio giocare a basket Guardo chi sta giocando E mi aggrego Quindi questa è L'idea un po' Dell'applicazione Allora Instaliamo una Laravel La installiamo Su basket map Folder root Quindi Qua la installiamo Lui ci sta installando La nostra Laravel La 8.20 E' un modo diverso Di installare Laravel Facendo quello Che abbiamo sempre fatto Laravel è installata Con successo Perfetto Adesso ci ributta Sulla cartella public Dopo 5 secondi Farai redirect Perché l'index Mi ributta Sulla public Ok Quindi 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 Quello che facciamo Ora Devo mettere il link Su tiktok Un attimo Devo mettere il link Su tiktok Ragazzi Scusatemi Un secondo Tiktok Tiktok Completa Per raccogliere Un bot di iscritti Di basket map Cioè persone che giocano a basket E che vogliono Insomma Trovare altri lovers E altre persone che giocano a basket E fare partite Fare tornei Organizzare il più grande torneo live Della storia del basket Bene Quindi Vediamo cosa mi dice qua Streamyard Adesso gli devo mettere Il linketto Se volete Se volete Apparire Se volete venirmi a trovare Vi copio il link Vi metto il commento Aggiungo il commento Questo è il link Di Streamyard Questo è il link Di Streamyard Vediamo dove ce lo mette Su YouTube Però Perché Questo è il link Per apparire Su Streamyard Allora Questo Questo È il link Per partecipare Voilà E Questo Invece Adesso lo andiamo a prendere Un attimino Su YouTube YouTube.com Dovremmo essere live A questo punto E quindi Io dovrei avere Il mio bellissimo linketto Per partecipare Il mio bellissimo linkettino Per partecipare Eccolo qua Live now Eccolo qua Lo copiamo E questo È il link Per E questo Il link Per vedere La diretta Ok Bene Andiamo avanti Quindi abbiamo installato Laravel Ok Sappiamo che Laravel Il mio bellissimo linkettino Ah è partita Aspetta che spegno Allora Sappiamo che La nostra Laravel Va su public Quindi la prima cosa Che voglio fare Io è togliermi dai Coglioni sta public Quindi fare in modo Che su basket map Vada direttamente nel public Se vi ricordate Come abbiamo fatto Abbiamo fatto Che all'interno Della home E all'interno Di basket map Anzi no Ho fatto una cazzata Ragazzi All'interno Della home E all'interno Della vara Anzi All'interno Della vara E basta Abbiamo user data Abbiamo anzi Cpanel Sotto cpanel Abbiamo user data User data User data Basket map Ci modifichiamo Il puntamento Della Root folder Che non sarà più Questa Ma sarà Questa Ok Salviamo Ci modifichiamo Anche l'SSL Che adesso vi faccio vedere Come installare E fa public Ok Salviamo tutto Dopodiché Ci colleghiamo Su mobax term Al server E rilanciamo Rebuildiamo La configurazione Di apaci Quindi farò Primariamente Dovrò rebuildare Con un script Che non mi ricordo più Come si chiama Però adesso Lo vado a prendere Rebuild Rebuild E E Lo scrittino È questo qua Esattamente questo Blink Quindi mi vado A lanciare Sta roba qua Dai Buon E poi farò Service Httpd Restart Così mi riparte La patch E mi carica La configurazione Nuova Ok A questo punto Io Bravo Da bravo Sfiguz Se vado Su basketmap Punto com Mi trovo La mia Laravel Installata Correttamente Su basketmap Mi ributta Mi ributta Mi ributta Lo stesso Su public Non ho capito Perché Ma probabilmente Perché Devo fare un'altra cosa Ragazzi Queste cose qua Le impari A starla facendo Non sono molto Difficili Cioè Nel multi php manager Nel multi php manager Io gli devo andare A dire A sto cristo Che E Siccome la 7.4 In generale I problemi con la Laravel 8 Il dominio basketmap Lo farò puntare Lo installero Una Laravel Una php 7.3 Purtroppo Perché Oppure Se voglio Ottenere la 7.4 La cosa Che devo fare È un piccolo Suggerimento Per evitare Che non funzioni Un cazzo È di disabilitare L'fpm Ok Fast CGI Lo disabilitiamo E a questo punto Io In teoria Adesso mi lascio La navai label Rilanciamo ancora La configuration Rilanciamo l'apache E a questo punto Basketmap Mi punta la mia Laravel Perfetto Ok Questo è un piccolo Bug Che in teoria C'è modo di risolvere Però Al momento Diciamo La via più semplice È quella di Disabilitare Fast CGI Perché almeno Riusciamo a far funzionare Tutto in maniera Molto più easy Ok Abbiamo installato Laravel Bene Quindi Camma fa Andiamo a strutturare Il database Ok Facciamo Anzi no Facciamo prima Tutta la parte Dell'authentication Utenti Quindi creiamo Tutta la nostra La nostra Nostro scaffolding Per la registrazione Utenti Quindi installiamo Livewire Installiamo Jetstream E creiamo un apparato Dove gli utenti Si possano loggare Poi Cosa facciamo Installiamo Laravel Socialite E gli consentiamo Di loggarsi Anche con Facebook Ok Quindi Bla 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 Facciamo sta roba Facciamo sta roba Andiamo su Abbiamo detto Vabbè Facciamo così C'è un bellissimo Tutorial Laravel 8 Out Jetstream Eccolo qua Questo qua È un bellissimo Tutorial Che Ci consente Di installare Jetstream Quindi Prima cosa Composer Require Jetstream No Aspetta Porta una gazzata Vado nella mia Folder Home Quindi Home LS Basket Map Cd Home Basket Map LS Cd Public HTML HTML Voila E qua Io li incollo Sta roba qui Cioè Composer Require L'Avere Jetstream Intanto Nel nostro Cpanel Ci andiamo a creare Un database Quindi Usciamo da Softaculous Torniamo Alla Alla Cpanel E Ci creiamo un database Con la procedura guidata Quindi facciamo Basketmap App Basketmap App Guardate le password Perché tanto Poi le cambiamo Quindi Non rompete Coglione Ma anche se poi Le sapete Cioè Voglio dire Non è che Mi venite a Hackerare la password Dai Siamo seri È una cosa Che stiamo facendo Live Pro bono Pacis Quindi Non penso Che qualcuno Mi venga a fare L'hacker Eh Ok Quindi A questo punto Abbiamo creato Un database MySQL Bene Abbiamo installato Jetstream Benissimo Il prossimo passo È settare il database Quindi Dobbiamo Entrare Dobbiamo fare Quello che dice lui Perché questo è un altro bug Che Taylor Beviamo ancora un po' di moscato Che Taylor Non ha ancora risolto Il buon Taylor Nel senso che Eh Come vedete Nell'app Service provider Se vogliamo fare Le nostre migration Di Laravel Dobbiamo Modificare lo schema A 191 Varchar Perché se no Di default Lui si blocca E quindi Quello che faremo Sarà Entrare Nella home Del nostro Progettino Sotto la nostra Laravel Abbiamo HTTP Abbiamo Provider App Service Provider Abbiamo La nostra Funzione Boot Dobbiamo Utilizzare In realtà Use Schema Qua in alto Quindi nel Namespace Dobbiamo Dobbiamo Instanziare Anche Il Metodo Schema La classe Schema E Ci dobbiamo Fare In boot Dobbiamo Farlo Partire Con Questa Schema Default Length 191 Caratteri Salva Ok A questo punto Siamo Pronti A far Partire Il nostro Database Quindi La cosa Che facciamo È Settare Il nostro File Env Il problema Che io adesso Non mi ricordo Più la password Perché sono Talmente Rinco Che Non mi ricordo Più la password E allora La cambio Quindi vado Nei database Vado Nei database Modifica La password Generatore Di genere Staccato Di password Qua Anzi Questa La copio Usa password Modifica Bon A questo punto Dentro alla cartella Base Quindi dentro La public Sapete come abbiamo visto Un'altra volta Che abbiamo il nostro File Env Il nostro File Env Example Diventerà Env Normale Anzi Env Database Database Va bene Database Name Sarà Basket Map App Basket Map App E la password Sarà questa Salvo Benissimo Ok Abbiamo fatto Quindi a questo punto In teoria Se io faccio PHP Archism Migrate Voilà Abbiamo creato Una tabella Utenti Una tabella Password Reset Una tabella File Jobs Ok Quindi Abbiamo fatto Questa bellissima Cosa A questo punto A questo punto Che cosa facciamo Abbiamo creato L'emigration Abbiamo installato Livewire Andiamo a vedere Come andare avanti Sulla nostra Creazione Del Del nostro Jetstream Quindi installiamo Jetstream Quindi installiamo Jetstream L'abbiamo già Anzalato Prima Adesso mi dirà Che C'è problema Perché l'ha già installato Jetstream Quindi No La cosa che dobbiamo fare È installare Livewire A questo punto Tramite Jetstream Livewire È Tutto Lo scaffolding Cioè tutta la parte Anche grafica In Vue.js Che ci installa Una login Tutte le pagine Interne Quindi la home La creazione Profilo Modifica profilo Cioè è praticamente Una Facilitatore Di Laravel Che consente Di avere Un ambiente Di installazione Già pronto Che ci consente Di fare Sta roba qui Quindi Facciamo così PHP Artisan Install Livewire Mi sta dicendo Che l'env Example Non esiste E quindi Cosa faccio Io creare Un nuovo file Punto Env Punto Example Ok Facciamo così E voilà Allora Lui si installa Livewire Una volta Che avrai installato Livewire Noi Lanceremo Un comando View E npm Quindi node Per fare La build Di tutti gli asset Che compongono Poi Dalla L'interfaccia Utente E poi Andremo a fare Un'altra Migration Per installare Le due tabelle Che mancano Che sono Le two factor Authentication E i token Anche Che ci servono Poi perché Quello che vogliamo Fare noi È usare Sostanzialmente Questa Laravel Per fare Un web service Che poi Useremo Cioè Prima ci creiamo Una landing page Dove gli utenti Si scrivono A sto cazzo Di basket map E poi Crea Lo usiamo Come web service Quindi installeremo Un ambiente API Dingo O chi per lui O Insomma C'è anche Un ambiente Laravel Apposito Che fa La web service Per Sendare i dati Alla nostra Applicazione Ionic Ok Quindi quello Che faremo Sarà Creare Un'applicazione Mobile Perché io voglio Che questa Sia un'applicazione Mobile Bene Quindi E saranno Abbastanza dolori Perché non ha Su Windows Ionic Sapete benissimo Che fa cacà Però vabbè Allora Adesso quello Che ci chiede lui È di runnare Questo comando Che fa la build Sostanzialmente Della Delle view E di tutte le componenti Node Che servono Per far funzionare Vue.js E per far funzionare In questo caso Live Wire Quindi Facciamo partire Questa cosa qui E poi Vediamo Di trovare Un template Fico Da installare Che ci consentirà Di registrare I nostri Utenti E di cominciare A utilizzare Questa applicazione Qui Quindi una volta Che gli utenti Si registrano Poi noi Questi utenti Li faremo Dietro Un'applicazione Ionic Dove potranno Dire dove si trovano E vedere Le partite Che si stanno Giocando In quel momento In quella zona Quindi utilizzeremo Anche dei concetti Di geolocation E faremo Le ricerche Geografiche Basate su Geosfere E su Formula Versiane Che ci consentiranno Di vedere Chi sta giocando A basket In quel momento Ok Avete delle domande In giro Guarda Ti stimo tantissimo Che sei te connesso Però io il link L'ho girato Per cui Se poi Qualcuno Si vuole collegare Vediamo Tutte le cose Che dobbiamo fare Nel mentre Andiamo a vedere A che punto Sta la nostra Authentication Utenti La nostra Authentication Utenti Sta Rannando Sta Rannando Ok Quindi Sta facendo Tutte le sue Build Sta Creando Tutta la sua I file Che gli servono Di node Io odio Node Perché È Una rotura Di palle Immensa Proprio perché Take a lot Of time To Develop Poi Sinceramente Non mi Chi c'è qua C'è qualcuno C'è qualcuno Che vuole entrare Chi sei Io ti Io ti faccio Entrare Lo stesso Però C'è un device Che non è supportato Caro Quindi Hai un device Che non è connesso Device Not connected XXX Devi Devi Loggarti Come un device Supportato Perché Vedi che ci dà Device not connected Quindi non riesco a Darti voce In tutto ciò E Vedete che siamo Al 70% Di build Dei moduli View Che ci consentono Di Trasformare La nostra Application In Realtà Nel mentre Eccola qua Perfetto Quindi a questo punto Noi ora In teoria Se gli andiamo A lanciare L'ultimo step Che ci mancava Che è L'ultimo Migrate L'ultimo Migration Voilà Noi a questo punto Dovremmo avere Se andiamo Su basket map Dovremmo avere La nostra Autenticazione Che palle Questa cosa qua La fab Che vuole C'ho una Vuole la proprietà Della cartella Storage Quindi C'ho una Meno r Storage Basket Mappa Basket Mappa Storage Ok Questo è un comando Che ci consente Di dare la ownership A User Basket map Del gruppo Basket map Su storage Ok E quindi Lui adesso Dovrebbe Fungere Correttamente No application Generate Qui ci manca L'application key Gli rageneriamo E voilà Login Jetstream Perfetto Register Jetstream Ok Abbiamo Tutte cose Abbiamo Tutte le cose Che ci servono E quindi A questo punto Ragioniamo Un attimino Sulla struttura Dei dati Prima Quindi andiamo A costruire Il database Andando A definire Anche un pochettino Tutti i campi Che ci servono Tutte le cose Che ci servono In ottica Di fare Un'applicazione Geolocata Stabiliamo Anche un attimo Che cosa ci serve Ci serve Sicuramente Essendo Un'applicazione Che deve Geolocalizzare Le persone In giro Per il mondo Che stanno Giocando a basket In quel momento E hanno bisogno Delle persone O che vorrebbero Giocare a basket Alle tre Ma sono in nove Gli ne manca uno O sono in cinque Gli ne manca uno Per fare il tre Contro tre A metà campo Per dire Ci serve Avere le posizioni Avere le geosfere Quindi È importantissimo Innanzitutto Avere Un database Che supporti La geosfera Che supporti La geometry I point Tipo MySQL Dalla 5.8 Lo supporta Quindi è importantissimo Avere quello E poi La cosa importante È avere Un meccanismo Di calcolo Delle geosfere Quindi Le cose Che farei Io adesso Prima di fare Tutto l'ambaradana Sarebbero quelle Di installare Come abbiamo visto Anche l'altra volta Torang GeoIP Che è Che è GeoIP GeoIP Che è un pacchetto Che ci consente Di determinare La posizione geografica Degli utenti Tramite l'IP Poi noi in realtà Andremo ad usare L'application mobile Quindi useremo La background geolocation Di Ionic Però Nel mondo Laravel Diciamo Può essere interessante Averlo installato Questo pacchetto Perché Ci consente Di fare Spoofing Degli IP E di avere Tutta una serie Di dati Interessanti Che Possono Servirmi Quindi Vediamo la documentazione E andiamo A installare Questo pacchetto L'ho già fatto Trecento volte Mi rendo conto Provo di fare Quella entrare in testa Questa cosa qua Quindi Documentation Composer Require Torang GeoIP Lo installiamo Via Installiamo Questa bellissima Cosa Installiamo Questo bellissimo Pacchettino Due cose Per portarci Un attimo Avanti Aspetta che scrivo Un messaggio Io sto Facendo Una Live Per Creare Una Startup In Una Notte Ok Benissimo 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 Quindi Ce l'ha installato Ce l'ha installato Il nostro pacchettino Torang GeoIP Bene Come funziona Sta roba Sta roba Funziona In maniera Molto Semplice Nel Senso Che Allora Anche qua Visto che ho già aperto L'app provider Devo fare una cosa Primariamente Perché lui da un errore Di cache Cache Doesn't Support Tagging 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 Torang GeoIP Ok Questo è un problema Un bug Suo Nel senso Ricordatevi Che quando installate Questo pacchetto Che funziona Benissimo Per carità Però c'è Questo problema Qui Che non è mai Stato risolto Quindi bisogna Modificare La configurazione Del file Andando a Cambiare Il meccanismo Di storage Dei cache Dei tag Cache Per farlo Va bene Innanzitutto Primariamente Qua sapete che Quando installa Un pacchetto Lui richiede Dei file Di configurazione Che va a mettere Sotto Ad una directory Che si chiama Config Quindi nella root Della nostra Lara L'abbiamo Config All'interno Di config Io mi aspetto Di trovare Stato Torang GeoIP Ma Non lo trovo Perché non c'è Adesso Quando ce lo apre Lo vediamo Quando ce lo apre Non lo vediamo Lo vediamo Non ce sta Vedi Ok Quindi la cosa Che faccio io È Un comando Che si chiama PHP Artisan Vendor Publish Ripubblico Tutti Voilà E a questo punto Io dovrei Trovare Dovrei trovare GeoIP 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 Ci abbiamo Il telefono GeoIP Si modifica La parte Cache Che abbiamo Detto Quindi questi qua Li mettiamo Qua sotto Nella modifica Qua Salva Abbiamo la carambata Nel mentre Vi stacco un attimo L'audio Perché Abbiamo la carambata Vai fuori Vai fuori Vai fuori per favore Un attimo Ok Quindi Abbiamo pubblicato Questa Questa cosa qua E abbiamo Sostituito Questa stringa Con Quella corretta A questo punto Se io vado Nell'app Service Provider Che è quella che ho aperto Prima Nella funzione Boot Quello che voglio fare Io è andare a prendere L'IP Dell'utente Quindi La cosa che facciamo Sarà App Request IP Con request Io vado a prendere Tutto ciò che riguarda La request Per esempio Ve lo faccio vedere Facciamo sta cosa qua Guarda Request Se voi Volesse andare a vedere Tutta la request All Anzi Non lo faccio Quello Facciamo poi dopo Da un'altra parte Però intanto Mi vado a prendere Request IP Salvo Salvo L'utente Qua Se io volessi vedere Cosa c'è dentro La request Che mi arriva sul server Non farei Né più né meno Che andare In Resource Nelle view E nella Welcome Quello che ho È questo Io Gli vado a prendere Request Request All Però Me la faccio Scrivere Su Db Ok Me la faccio Scrivere così Db Request All Cosa succede Adesso Succede Che Se io rilancio La mia Home Quello che vedo È la request Vuota In questo caso Qua Ok Perché Non ho Nessun tipo Di Io gli andassi A mettere Request IP In teoria Io ritrovo Il mio IP Ok Quindi Lui ragiona In questi termini qua Tutto ciò Che arriva Al server È una request Che viene Elaborata Dal lato server Per farlo Usiamo i controller Usiamo I middleware Usiamo diverse cose Quindi Risalgiamo La nostra Home Torniamo Alla nostra Application Server Provider E adesso Che abbiamo L'IP Vediamo Come funziona Proprio Il Geo IP Funziona Che Se io gli do L'IP In pasto Lui mi tira fuori Tutta sta stringa Qua Quindi Farò Questa roba qua Farò Geo IP Geo Che sarà Geo IP L'altra cosa Che devo fare Io È usare La View Share Perché voglio Condividere Questa Informazione View Share Geo È uguale a Geo Così facendo Io L'IP Dell'utente E tutti i suoi dati Geo Locati Li posso Utilizzare In tutte le view Dell'application E quindi Se io volessi Vedere Per esempio Se io volessi Vedere Per esempio Geo IP Per esempio Come H1 Come H1 Lui mi tira fuori La sua cosina Ok? Vediamo 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 Dove era Dove era più Basket map Vediamo cosa succede Geo IP Ho sbagliato Perché è Geo Non è Geo IP È Geo E basta Voila Geo IP Milano Perfetto Quindi io sono a posto Adesso L'utente Geo Locato L'altro pacchetto Che mi serve Per fare quello Che voglio fare È un pacchetto Che si Chiama Geo Spazial Questo mi serve Tantissimo Perché mi consente Di Calcolare le geosfere Quindi io ho bisogno Come il pane Di questo pacchetto L'arvel maggiore Della 8 Dobbiamo usare La versione 4 E quindi facciamo così E E E E E E Questa roba qua Qua La stagliamo E questo qua È un pacchetto Che mi consente Di calcolare Le geosfere Ed è abbastanza importante Perché Un'applicazione Che lavora Intensivamente Con le geosfere Deve avere La possibilità Di calcolare Senza andare Tutte le volte A farlo Tramite Google Maps Perché se no Spendi una barca Di soldi Ma Una barca È un po' più Un bagno di santo Quindi direi Che è meglio evitare Nel mentre Nel mentre Nel mentre Nel mentre Nel mentre Che ci sta installando Questa roba qua Io comincerei A ragionare Un attimino Su Sui template Quindi Andiamo su Team Forest E andiamo a vedere Io ce l'avevo Già un template Che poteva essere Interessante Però Vado a vedere Un template Che può Può essermi Utile Per questa Applicazione Quindi se io scrivo Basket Per esempio Se io vado A scrivere Basket 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 Aga è proprio Niente No ma sapete cosa facciamo Io l'avevo già fatto A sta roba qua Volevo fare una cosa Con un video Background Animato E con la possibilità Di loggarsi Trante facebook Quindi Sì Una cosa di quel tipo Lì Sport Sport Club Per dire Sport Club In html Categorie Site Template E Per dire Questo è bellissimo Guarda Questo è template Questo è il mio Big Slam Vediamo Se è carino Big Slam Vediamo Basketball Fico Questo qua è veramente Bello Vabbè È un po' Troppo Analitico Però Mi dà già Delle immaginette Carine E quindi È interessante È interessante Molto interessante Va bene Prendiamo questo qua Dai Quindi adesso Me lo scarico Mettiamo questa parte Ragazzi Me lo scarico Ok Lasciamoglielo scaricare Nel mentre E nel frattempo Pensiamo A Come vogliamo Promuovere Sta pagina Cioè Alla fine La monetizzazione Di sta pagina Qua Se deve essere una start up Deve essere una start up A tutti gli effetti Quindi la monetizzazione Di questa pagina qua Da dove deriva Dal fatto che Chi Cerca Qualcuno Una partita In quel momento lì Trova la partita Ma chi la lancia Probabilmente Dovrà pagare Una quota Oppure Facciamo in modo Che tutti i giocatori Debbano pagare Una fee mensile Forse è la cosa migliore Facciamo che tutti i giocatori Che si vogliono iscrivere A Basket Map A parte la trial Gratuita Di un mese Si devono Registrare Devono pagare Un euro al mese Un euro Un euro a testa Un euro a testa Per utilizzare Basket Map Un euro a 99 Per fare questa cosa qui Delle subscription Ci andiamo ad installare Una Pacchetto di Laravel Che si chiama Asche Laravel Asche Air Che ci consente Di Monetizzare E di utilizzare Stripe O Jetbrain Queste robe qua Per Monetizzare La nostra applicazione Quindi Lo installiamo Installazione Di Laravel Cashier Lo installiamo Qua dentro E poi Lo configuriamo Con Stripe Lo configuriamo Con Stripe Qui ci abbiamo sempre Milano Come Dato Nel mente Lui sta scaricando Il nostro template E Una volta Che abbiamo installato Laravel Cashier Avremo bisogno Anche Laravel Socialite Che è il Pacchetto Che ci consente Di andare A creare La Social login Tramite Facebook Vediamo Cosa è successo Sta ancora installando Laravel Cashier Sta ancora installando Non so chi tu sia Però sei un temerario Che sei stato qua Fino adesso Quindi Vuol dire che ti interessa Proprio la programmazione Massima stima E Sì Insomma Vediamo un po' Se riusciamo a venire Nel capo Io sto qua Finchè non ho finito Perché voglio fare Sta start up In one night Voglio poter entrare Nel Guinness Dei primati Dicendo che ho fatto Una start up In una notte Quindi Non mi schiodo Allora Ci ha installato Laravel Cashier Adesso andiamo A installare Laravel Socialite Socialite Vediamo Cosa succede Vediamo Vediamo Cosa succede Stiamo installando Laravel Socialite Nel mentre Stiamo facendo Tante cose Multitasking Stiamo scaricando Il template E Nell'altro Mentre Io vado Su Registro Imprese Che la voglio fare Veramente Sta cosa Vado su Registro Imprese Start up Innovative Start up Innovative Registro Imprese Voilà E mi vado a creare Una start up Crea una modifica Start up Crea start up Innovativa Inizia subito Acti in compilazione Entra con speed Io ho post id speed Quindi apro la mia applicazione Qua Sul cellulare Post id Faccio l'accesso Entra nell'app Entra con QR code Scusami Entra con QR code Me lo scanni Benissimo Metto il mio pin Autorizzazione Non concessi Ma sei una merda Sarai proprio Una merda Riproviamo Niente Non va Ma mi vuoi far capire Perché Perché Se voglio fare una start up Alle 10.33 in Italia Non posso Perché Vedi Autorizzazione Non concessa Guarda Te lo faccio vedere Mi siate testimoni Non si vede un cazzo Autorizzazione Non concessa Ma sarà una merda Ma sarà una merda Vabbè Riproviamo Finchè non va Forse adesso è andato Sì Forse è andato Dopo la terza volta È andato Bene Quindi Io adesso Entro nella start up Infocamera Nella Registro imprese Vado a creare Una nuova start up Che chiamo Inizia subito Atti in compilazione Adesso l'account è stupido No? Perché in realtà Io devo fare così Faccio Compilato Cliccando qui Perfetto Vabbè Adesso ve lo spiego Un attimo Nel senso che Poi lo vado a compilare Con calma Lo faccio Eh lo faccio Però Poi lo compilo con calma Data e luogo Si mette data e luogo Sottoscrittori Si mettono I sottoscrittori Al capitale Quindi i soci Quei coloro Che rilasciano Il capitale Denominazione Si mette la denominazione Sede Si mette la sede Chiaramente Quindi per necessità Il capitale sociale Si mette 10.000 In genere Liberato 2005 Bisogna versare Il 25% Del capitale sociale Quindi Vale la stessa regola Delle SRL classi Delle SRL classi Che bisogna Versare 2500 euro Conferimenti Devono corrispondere Al capitale versato Quindi chiaramente Se versi 2005 I soci Che liberano capitale All'atto di sottoscrizione Devono versare Il 2005 Quindi il totale 500 1000 1000 Per dire Devono essere Pari con quanto Poi viene versato Nella chiusura Esercizi Si va a mettere La chiusura annuale E la data di chiusura Del primo esercizio Che in questo caso qua Facendola partire Al primo gennaio 2021 Sarà 31 dicembre 2021 Per esempio Amministrazione Amministratore unico Nel mio caso Perché sono solo io Chiaramente Altrimenti Ne metterete di più Durata dell'organo Amministrativo È a tempo indeterminato Nel mio caso Qui potete giostrare E Configurare La startup Come meglio credete Cioè potete mettere Una data definita Potete mettere Fino all'approvazione Del bilancio Di chiusura Del Quindi deve essere Approvato il bilancio Eccetera Eccetera Spese Età Se sono 200 euro Di versamenti Che vanno Previsti Per la registrazione Fiscale Del modello Come allegati Si inseriranno I documenti Dei sottoscrittori Firmati Autenticati In pdf A Quindi Un pdf Autenticato Fatto questo Lui Ti dirà Di compilare Lo statuto Lo statuto Prevede La denominazione L'oggetto Sociale Che è uguale Per tutti Però Cioè No Lo statuto Lo statuto È uguale Per tutti L'oggetto Sociale Cambia Chiaramente Quindi qui Voi dovete Scrivere qualcosa Di boccia Lo so Basket Map È Una Applicazione Immobile E Sito Web Che Consente Agli Appassionati Di Basket Di Incontrarsi E Organizzare Organizzare Partite Ed Eventi Ed Eventi Tramite Una Comoda Ricerca Geolocalizzata Geolocalizzata Gli utenti Potranno Organizzare Organizzare Le Proprie Squadre Organizzare Le Squadre Partecipare E Creare Tornei Anzi Più che Partecipare Facciamo Creare O Partecipare In Tornei E Competizioni E Competizioni E 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 Possibile Organizzare Campionati E Divisioni Amatoriali Boh Questo è un esempio per dire No La durata della società Chiaramente sarà Indeterminata Capitale sociale Sarà 10.000 euro Conferimenti Devono chiaramente Coimbacciare Con i valori Che avete messo Una cosa importante È Questa clausola qua Sull'aumento del capitale sociale Quindi le quote messe in sede di aumento di capitale Possono essere destinate in tutto in parte ai sottoscrittori di terzi Questo è molto importante Leggerlo bene Perché Se voi un domani volete aprire il capitale a investitori Questo punto qui è quello che vi serve considerare al meglio È sempre buona cosa Buona norma Prevedere Delle quote di tipo A Delle quote di tipo B E dei meccanismi di Diciamo Paracadutaggio Nel caso in cui ti entrino poi dei venture capital O degli investitori Che Si arrogano il diritto comunque di partecipare alle decisioni dell'azienda Quindi In Italia c'è questa tendenza Un pochettino Lo sapete bene A Diciamo Ti do 10 mila euro Mi da il 50% Quindi poi comando io in consiglio di amministrazione Non è vero un cazzo Piuttosto tenetela lì la vostra startup Fate la crescere molto lentamente Per i mezzi che avete Aumentate nel valore E poi soltanto quando avete un valore decente aprite a capitali Perché se no In Italia i manager sedicenti Degli anni 60 Dettano legge E vi Dall'alto di un'esperienza Che non hanno In ambiti tech Che non sono più quelli In cui hanno Magari anche primeggiato nel mondo Però Cercate sempre Dei Degli investitori O dei Venture capital O dei business angel Molto verticali Che hanno esperienza specifica In quel settore Che vi possono portare valore In quel settore Che vi possono portare networking I consigli di business Fanno bene a tutti Ma se uno non ha contatti da portare Se non ha Contratti da portare Se non ha aziende da introdurre Se non ha POC da farmi fare Cioè Proof of concept Aziende che adottano il mio servizio Per un tot di mesi E mi dicono se funziona o no Cioè questo ha bisogno Una startup Non ha bisogno di consigli Di mentor Del cazzo Che non sanno neanche Dalle parti sono girate Ok Va bene Quindi questo qua È un po' il discorso Dello statuto Della Startup Quindi Le quote La partecipazione Capitale sociale Vi leggete tutto con calma Facendo questo Poi alla fine Lo firmate E poi lo firmeremo In P7M Utilizzando il software Dyke Di registro imprese Dopodiché saremo in grado Di registrare La nostra startup Lo facciamo stanotte Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Nostra un baradano Quindi Siamo arrivati Al punto In cui Abbiamo Nel mentre Sono le 22.42 Ragazzi Poi mi devo fermare Per il brindisi Perché non lo posso fare in diretta Però Poi riprendiamo dopo Quindi Basketmap Milano Perfetto Vediamo se ha scaricato il nostro Sta ancora scaricando il nostro Il nostro template Cosa possiamo fare nel mentre Intanto che sta scaricando il nostro template Abbiamo installato Socialite Potremmo nel mentre Vedere un attimino Se Socialite Ha installato correttamente E andarci a creare L'authentication Degli utenti L'arabel L'arabel Socialite L'arabel Socialite Vediamo se è installato Correttamente Direi di sì Sì Ok Sì Non c'è niente di particolare Quindi Vediamo ancora come Vendor publish Se mi chiede Socialite Ma non me lo chiede Perché si configura nei services Perfetto Quindi Andiamo a ragionare un attimino A questo punto Sulla struttura del nostro database Quindi Facciamo l'accesso a PHP My Admin Di Proprio Di Basket map E andiamo A vedere un secondino Che cosa ci serve Per fare sta cazzo di start up Cioè che dati ci servono Poi fondamentalmente Io voglio organizzare Partite di basket Quindi immaginiamo lo scenario No Perché poi un database È una cosa Che sembra strata Però poi è molto concreta No Quindi Che cosa mi serve Mi serve di sapere I giocatori che giocano A basket E ce li abbiamo Dobbiamo probabilmente Modificare la struttura Di questa tabella Perché Sicuramente Ci sono dei campi Che abbiamo bisogno Che non abbiamo I campi Che abbiamo bisogno È Chiaramente La posizione La posizione attuale Dell'utente Quindi La latitudine Latitude E longitudine Questi sono due campi Di tipo Geometry point Geometry point Ok Alla 5.8 MySQL Ha questa roba qua Fighissima Dei point Nativi Cioè ci consente Di andare a calcolare Le geosfere In database E questa è una cosa Super figa Poi Cosa ci serve Ci serve Dell'utente Cosa ci serve A sapere Il ruolo Magari Che gioca Roll Ci serve A sapere L'altezza E ci interessa A sapere Il livello Magari Di gioco Nel senso Se è stato Professionista Se è stato Non so Come gioca Una valutazione Evaluation Evaluation Questo lo daranno Anche gli utenti Quindi ci serve Di avere questo Questo sarà Un Un campo Con virgola Quindi lo trattiamo Come float L'altezza Sarà float Anche lei Perché avrà La virgola E il Roll Lo definiamo Con pivot point Nel senso Che i roll Gli voglio assegnare Io Ok Quindi questi 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 campi qua Ci serviranno Li facciamo null Però perché Me li completterà L'utente Una volta che accede Non voglio farlo Adesso Perché non voglio Vincolarla Inserire Delle informazioni Che non Mi interessano Poi ragioniamo Se ce ne servono Degli altri Però Perché ci serviranno Dei campi Sicuramente Per la login Di facebook Quindi Ci servirà Sicuramente L'id Di facebook Ci servirà Il Token Di facebook E quindi Sicuramente Ci servono Altri due Campi Sicuramente Ci servirà Magari Il linguaggio Che andiamo A storare Quando Quando accede E L'ip Attuale Che però Lo posso evincere Dai log Quindi farò Un raccordo Tra la tabella Dai log E la tabella Degli utenti Dobbiati Utenti presenti Abbiamo detto Abbiamo detto Il facebook E di Un bar Il token Facebook Allo username Di facebook Username Fb Username Var 300 Var Questo articolo Sarà 50 Anche lo username Facciamo 30 Massimo Non sporchiamo Dei campi Per niente E poi abbiamo detto Active Ah no Il plan Perché gli voglio dare La subscription Quindi voglio dire Plan Plan Intero Salva Ok La mia tabella Degli utenti A questo punto Ha tutte le informazioni Che mi servono Corrette Null Quelle che sono null Queste qua Devono essere null Anche loro Perché se no poi Non funziona Quindi le modifico E le rendo null Perché non sono Mandatorie Ai fini Della nostra Live Ok Bene Quindi vediamo Se ha finito Di scaricarci Il nostro template Ha finito Perfetto Quindi 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 Noi siamo qui Adesso Quello che facciamo È installarci Concretamente Il nostro Template Creare La login Di facebook In modo che Voi vi possiate Registrare Sta cazzo Di basket map E intanto Noi abbiamo Configurato Quello che ci serve La base Diciamo La base di partenza Cioè il fatto Che tutti Possano Registrare In basket map Definire il tuo ruolo Eccetera eccetera E vedere Che cosa Che partite Si giocano Attorno a te In quel momento Per fare questo Un pacchetto Che non abbiamo Installato Ma che ci serve È il pacchetto Delle mappe Cazzo Perché se non abbiamo Le mappe Se avete Le domande Ragazzi Scrivetele Che vi rispondo Delle mappe Non so quante persone Ci sono su twitch Non ne ho idea Lì su youtube Ne vedo due Su facebook Cioè su facebook Ne vedo due Perché in realtà Vedo solo quello di facebook Pacchetto mappe No Come faccio Se voglio installare Un pacchetto di mappe E non so Dove cazzo andare Vado su pacalist Che è Il Il L'ambiente di Scaricamento dei pacchetti Di Laravel E scrivo Maps Google mapper Cornford Google mapper Questo è molto Carino Perché è quello Che mi serve No Ed è Molto carino Quindi Cornford Google mapper Ecco Questa cosa Delle mappe È fichissima È molto Fica Ragazzi Adesso la vediamo Perché è Fica Proprio Quindi Installiamo Composer Composer Require Cornford Google mapper Benissimo Mo Ce la Installiamo Moscato Moscato qua sta finendo Però ne abbiamo Delle altre Bocce Quindi beviamo con un goccino di moscato Il moscato è leggero Quindi Ci sta benissimo L'aranciata L'aranciata È come l'aranciata No Il moscato è È come l'aranciata Ragazzi Quindi stiamo installando le mappe Una volta che abbiamo installato le mappe Ci andiamo a creare una Google Maps Dove andiamo a vedere le partite di basket Che si giocano in quel momento Live attorno a noi Quindi Facciamo in modo che Tramite il processo che abbiamo installato Di geolocation Di spoofing Dell'IP Ci andiamo a prendere L'attitudine e longitudine L'estoriamo ADB Andiamo a vedere Attorno a noi Calcolando la geosfera Che cazzo succede Se ci sono delle partite di basket Ok Abbiamo visto come registrare la startup Su registro imprese E quindi Io non mi schioderò da qui Stanotte Finché non avrò lanciato Basket Map Ok Vediamo cosa sta succedendo Qua Perfetto Ci ha installato il nostro Cornford Google Mapper Andiamo a vedere la documentation Che cosa ci dice Di fare Ci dice che Basta Lui l'ha installato Quindi una volta che l'abbiamo installato Fa l'auto discovery Quindi non ha più bisogno Devo andare a creare Una console Una 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 kit di Google Maps Ragazzi Eh Vogliamo fare sta figata So che sarà un bagno di sangue Però lo facciamo Si va su console Developers Google Non so se l'avete mai creata Sta cosa qua No Però Questo è quello che ci consente Di Di far funzionare le mappe Le mappe hanno bisogno Di Google Maps Quindi Quello che faccio io Adesso è switchare Ad un account Diverso da questo Perché non è abilitato Non è abilitato E quindi accedo con questo Magari Next E una volta che sono Che ho fatto l'accesso A questo Fondamentalmente Una volta che ho fatto l'accesso Con questo Sono Abilitato Adesso ad andarmi a creare Nella mia library Nella mia library Perché mi dice che io non ho Sufficienti permissions Non lo so Ad account Aggiungiamone uno Vado ad aggiungere un nuovo account Infobasketmap.com Creiamo un account nuovo For myself Basketmap Info Che ho C'è la basketmap.com Mi creo Un account Qui sopra Adesso Adesso per me non andare Di mail No Che sfiga No Vabbè Lo facciamo con un altro account Perché non mi ricordo più Che è un account attivo Con sta roba qua Quindi Proviamo a farlo con questo Allora Qua siamo Qua siamo un attimo In difficoltà Su sta cosa Però Perché la live Live Non mi piace fare i live Però Mi piace fare i live Ma poi Mi trovo nei casini Vediamo se funziona Dovrebbe funzionare Vedete Vedete il mio numero In chiaro Quindi se volete Chiamatemi pure Tanto siete in due gatti Connessi Connessi Allora 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 Vediamo Adesso io devo creare Un nuovo progetto Progetto nuovo Che chiamerò Basketmap Adesso vediamo Se lo crea Seleziona progetto Ok A questo punto Si va sotto a API e servizi Si va sotto Abilita API e servizi Quello che serve a noi Per far funzionare Le mappe È la Eh ma ce ne ho per un po' Eh Ce ne ho per un po' No dico Mezzanotte Si 12-10 Venite dopo Yes Va bene Va bene Ok La bottiglia Prendo io Le mie Ce l'ho io Ce l'ho io Don't worry Bottiglie ce le abbiamo noi Allora Eh Javascript APIs Queste situazioni qua Ragazzi sono anni particolari Nel senso Siamo lockati down E quindi Asponda Dines in apart E quindi Allora Stiamo installando La Abilitando La L'API Javascript Di Google Maps Che è quella che ci serve Adesso mi dà un errore stranissimo Però dovrebbe essere attivata Attiva Adesso mi dà 300 euro di credit Però non ci vuole verificarli adesso Quindi probabilmente non funzionerà Per quel motivo lì Però Io adesso dovrei aver abilitato Questa roba qua Se vado nella library Quindi a me serve questa API qua Mi serve place API Anche Perché vorrei poter usare L'autocomplete Quando vado a fare La compilazione di un campo Vabbè Adesso mi dà degli errori Non ho capito La qual è la motivo Credenziali Andiamo a vedere le credenziali Sono abilitate però Quindi sono corrette E quindi le credenziali Io mi vado a creare Una Chiave API Che è Questa E me la chiudo Perfetto Quindi a me serve Una chiave API Non restretta a domini Non con cose particolari Quindi vedete Che è senza restrizioni Questa Dove la metto Sta Sta chiave API Dovrò fare ancora La pubblicazione Dei Dei vendor Quindi Dovrei avere Google mapper Che è tag 26 E quindi Ho pubblicato La 26 Che era Google mapper Ok A questo punto Sotto Sotto La mia configurazione Config Google mapper Dovrei avere La mia API Che è questa No Devo copiarla Ancora Che è questa qua E quindi A questo punto Io Ho salvato La mia API Kit Linguaggio Gli dirò Che il linguaggio Sarà It It Ok E da questo punto Io ho tutto L'apparato Che mi serve Per far funzionare Le mie mappe Andiamo a vedere Come funziona Sta roba qua No Dove cavolo L'avevo messo Allora Ford Google Eccolo qua Eccolo qua E' abbastanza semplice Da usare Lui è bravissimo Lui è super bravo E' proprio uno Dei developer Migliori E Bla 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 Basicamente Cosa succede Che è molto semplice Da usare Perché Quello che Voglio fare io Per esempio E' mapper Map E andare a prendere Una location Particolare No Quindi Facciamo l'esempio Che io voglio Fare sta cosa Vado nel mio Welcome Blade E gli dico Che Mapper E' uguale A Mapper Metto Backslash Perché non sto usando I namespace Quindi Ok E Per 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 Renderizzare La view Quindi Per Render La view Gli faccio Map Render Zero Render Zero Map Render E I Javascript Vi devo dare Un div Che abbia L'altezza Style 8 Perché se no Non funziona Mi ricordo 300 pixel Massimo Quindi Vi devo dare Un div Sempre Ok H1 H1 A questo punto Non c'entra H1 Anzi Potrei fare Guarda Potrei fare Una cosa Di questo Tipo H1 Mappa Le Partite Di Basket Attorno A te H1 Ok Div Style Map Render Li vado a renderizzare Anche i div Anche i Javascript Quindi Faccio Così Ok E da questo punto In teoria Io Dovrei Avere La Mappa In teoria Sicuramente ci sarà qualche errore sicuro Infatti C'è Qualche errore sicuro Language Is Required E Probabilmente abbiamo sbagliato Qualcosa Nella configurazione Google Mapper Nel senso che Non è giusto il linguaggio Non è giusto il linguaggio Ok Lui mi ha fatto vedere I miei script Però Non ha daravato un cazzo Perché Non ha daravato niente Perché io gli devo dire Che Questa roba qui Deve essere Così In realtà Perché Sennò lui me la scrive Paro paro In realtà Non deve essere così E anche questo È codice Quindi Deve essere Così Ok Questa è il round mode Quindi ti consente di fare Il row Wow Figata Vabbè Adesso ci dà un errore Il cavolino Comunque Questo è quello Che è intorno a noi In realtà Questa cosa poi La potrei anche tenere E salvarmela per dopo Perché la voglio fare Poi in dashboard Nel senso che Voglio fare Una mappa Dove vedo attorno a me Chi sta giocando In quel momento lì Quanti sono Quanti gliene mancano Che partite Si stanno organizzando E se voglio Mi posso Aggregare A sta partita Di basket No Quindi Questa qua Potrebbe essere Tranquillamente Una nostra Adesso ci dà Un errorino Il cavolo Però vedi che Adesso lui ha preso Sheffield Io volendo Potrei Tranquillamentissimo Fare una cosa Di questo tipo Cioè Andargli a dire Di usare la location Anziché La latitude And long E quindi Andargli a dire Che per esempio Mapper location Mapper location Mapper location Uguale Baroni Per dire Io sono Ambroni Va via Quindi faccio così E Quello che accade È questo No? Vabbè Adesso ci ho dato Un errore di autorizzazione Dell'API Forse perché ho sbagliato Un account Ho usato un account Che non era abilitato Non lo so Comunque Vabbè Adesso torniamo indietro Adesso qui funziona In realtà Per convertire Ah no Ma sai perché? Perché nella API key Io devo abilitare Il geocoding Anche no? Devo abilitare Anche il geocoding Reverse geocoding Perché se no Non funziona Quindi Geocoding Reverse geocoding Map Geocoding Geocoding API Sono quelle che servono a me Vedi che questa non è abilitata No? Perché Mi serve Questa API Per triangolare Per fare in modo che Il sistema Recepisca Recepisca La Location Tramite l'IP Quindi mi serve La geolocation E' geocoding Anche API Quindi Library Library Geocoding API Abilito Ed a questo punto In teori Se io vado A fare Ancora Location Brony In teoria Dovrebbe funzionare Dovrebbe Quindi Faccio così Che palle Dobbiamo abilitare Billing on a cloud project Vabbè Fiori Comunque Usiamo Usiamo le coordinate Comunque Per farvi capire Questo era un po' Il discorso Se io gli vado Abilitare La fatturazione Mi fa Mi fa La conversione La conversione Anche dei luoghi Quindi io gli scrivo Milano E lui mi tira Poi le cose Va beh ma questo È una cosa abbastanza Futura e futuribile Quindi Quello che abbiamo fatto adesso Voilà Abbiamo la nostra Mappa Questa Abbiamo detto La possiamo utilizzare Come pagina All'interno Io adesso Voglio creare Un meccanismo Tale per cui Gli utenti Si possono iscrivere Per cui Andiamo a prendere Quel bellissimo Template Che abbiamo Scaricato Prima Andiamo a prendere Quel bellissimo Template Che abbiamo Scaricato Prima C'è qualcuno Che vuole entrare Qua C'è qualche messaggio Ho sentito Un bit A qualche Beh Allora Andiamo a prendere Quel bellissimo Template Che abbiamo Scaricato Prima Che è In C In C Basket map Ce l'abbiamo Qui dentro Abbiamo Il nostro Template Che dovrebbe Avere Scaricato Usando HTT Track Dovrebbe Essere Qua La nostra Index Vediamo Che C'è C'è Scaricato Eccolo Qua Ci ha Scaricato La nostra Homepage Io avevo Fatto fare Anche un logo Di questa roba Qua All'epoca Poi non l'ho Più sviluppato Però avevo Fatto fare Anche il logo Quindi Prendiamo Questo Template Qua Tutta Questa Parte Qua Relativa Alle cartelle Con dentro Gli Asset La Zippiamo La inviamo A una cartella Compressa Quindi Zippiamo Il tutto E Né più Né meno Questo zip Ce lo andiamo A caricare Nella nostra Cartella Degli asset Che è la Public Quindi sotto Public Oltre Css IJS Che abbiamo Già Andiamo A Creare Una Sottocartella Che chiamiamo Frontend Ok E sotto Frontend Gli andiamo A buttare Dentro Sta roba Qua Degli asset Quindi Roba Degli asset Via Dentro Una volta Che siamo Qua Andiamo In cd Public LS Cd Frontend LS Vediamo se Ha finito Di caricarla Sì Un zip Assets Punto Zip Voilà Giorna Perfetto Elimina Elimina Ok Quindi Quello che facciamo Noi adesso È andarci a prendere Il codice Della nostra Index View Apri con Sublime Text Seleziono tutto Copio Incollo Nella welcome Ok Quindi Il Questa parte qua Di rendering Magari Facciamo che Ce la mettiamo Da parte Quindi Facciamo così Questa parte qua La mettiamo da parte La teniamo in un altro file Che Chiamiamo Home Quindi andiamo sotto le nostre Ressource View Dashboard Per esempio E qui E qui Gli vado a mettere Il mio codicillo Che poi Userò Ok Nel mentre Nella welcome Io ho creato Tutto quello Che mi serve L'unica cosa Che dovrò fare Sarà quella Di andare a Definire Gli asset Che saranno Assets Quindi Poi vedremo Come usare Laravel Mix Asset Frontend Ok Asset Frontend Frontend Assets Buggins Blah 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 Tatatata Cia 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 Ok Qua devo cambiare Tutti Il Perché l'ho cambiato Di lì E quindi Lo devo cambiare Tutti Lo devo cambiare Tutti Non fatele Ste cose Fatele in maniera Un po' più Intelligente Di me Però Io lo faccio Così Ok Assets Frontend Assets Che ha sbagliato Poi perché Non è Assetese Ma è Assets Assets Io gli sto dicendo Praticamente Che questo Lo deve trattare Come un Assets E quindi Poi Io volendo Vi farò vedere Come usare Level Mix Come usare View Per fare queste cose Molto fiche Però Quello che mi interessa Adesso è fare Questa roba qui Cioè Andare a Dedica Un asset Così mi rompisco Giorno In caricamento Anche i miei Javascript Me li vado a richiamare Nello stesso modo Mi riescono Più qua Che fa così Ammessi A cazzo di cane Però Quello che faccio Io è questo Ok Benissimo Ora Anche qua Facciamo la stessa cosa Ok Facciamo la stessa cosa E facciamo la stessa cosa Di qua Stessa cosa Di qua Stessa cosa Via Boom Salva È un ultimo dell'anno Atipico Eh Aggiorna Basket Vediamo cosa succede Non ha preso un cazzo Classicamente Perché Non ho capito perché Però Non ha preso un cazzo Vediamo perché Vediamo Because Vediamo Because Dice Lui dice Che Lui dice che C'è un not found Eh beh Ho sbagliato a scrivere Ho sbagliato a scrivere Ho sbagliato a fare Il cazzo Asset Frontend Ah Sì Beh ragazzi Cazzo Sì Allora Questo è sbagliato È sbagliato Perché Dovrebbe essere Così Giusto Dovrebbe essere Così Invece Non sta cambiando Un cazzo Sta cambiando Un cazzo Perché Fai così Frontend Assets Plugins Revslider C'è qualcosa Che non va C'è qualcosa Che non va Vediamo di localizzare Questo CSS In maniera Corretta Dovrebbe essere Quest'ultimo Un pezzo Qua No Vediamo Se ce lo Può vedere Ok Allora Vediamo Public Vediamo Public Frontend Non è Assets Non c'è Non c'è più Assets È frontend E basta È frontend E basta Quindi Assets Non c'entra Nukaz Quindi Togliamolo Perché Non c'entra Nulla Ando Replace Assets Via Allora Solo Frontend Vediamo E E già qua Cominciamo a ragionare Ci mancano tutte le immagini Chiaramente Adesso le mettiamo giù Però già abbiamo un template Dove non ci serviranno Tutte ste robe qua Chiaramente Perché non è una Una live Chiaramente Però potrebbe diventarlo Nel senso che potrebbe essere Un amatoriale Dove volendo Questa roba qua La tieni Per far vedere Chi sta giocando attorno a te I punteggi E quant'altro Però diventerà una cosa Troppo complessa Non vogliamo fare solo Che gli utenti Che amano giocare a basket Si registrino Dicono che sono Dei giocatori di basket E che sono lì In quel momento Tutti gli altri Possono cercare Invitarli a giocare E fare delle partite E quant'altro Ok Quindi mettiamo gli asset Gli immagini Perché alla fine Quello che ci manca È questo Quindi noi dobbiamo Prendere questa roba qui E trovare Le src Images Devo fare dei saluti Poi a della gente Dobbiamo collegarci Un attimo Con zoom Src Pmg Src Uguale Uguale Replace Img Src Uguale Questa roba qui Dovrebbe essere Salviamo E da questo punto E da questo punto E da questo punto Io potrei Dovrei In teoria Avere tutti i miei loghi E tutte le mie cosine Fico No? Fico 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 Non ho Un cazzo Di immagini In realtà Ne ho un po' Però sono Diciamo Altre sono caricate Probabilmente Come JS Quindi Devo caricarle Poi come JS Però Cominciamo a ragionare Un po' Di title Title Facciamo che i title Sono geolocalizzati Quindi Title Faremo Landing Punto Title Ok Dicendogli Questa cosa qua Io gli sto dicendo Che lui deve Geolocalizzare Il title Sulla base Del linguaggio Che io conosco Perché ho fatto La geolocation Ho fatto lo spoofing IP Quindi quando mi collego So il linguaggio Della persona Che si collega No Quindi A questo punto Io vado a crearmi Un file Sotto a Resource Leng Crea un nuovo file Facciamo che Creiamo una nuova Directory IT Io qua sono in Leng Quindi facciamo finta Di farlo in inglese Creiamo un file Lending .php Quello che faccio È Creare un array Di questo tipo Lending Dove gli vado a dire Per esempio Che Il title Title È uguale a Basket We love Basketball Ok Perfetto 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 Ragazzi Mi stacco Mi stacco Ti vado a fare Il brindisi Con la family E poi Il ritorno Che andiamo avanti Finché non è finita Sta roba Perché io voglio Che stanotte Sta start up Sia lanciata E il primo gennaio Io voglio Avere basket map Vediamo se funziona La nostra title Title Basket map We love Basketball Perfetto Quindi abbiamo Poi in realtà C'è anche un pacchetto Che si chiama Alcan Dev SEO Map Che ti consente Di andare a fare Tutto un lavoro Pazzesco Sulla SEO Sulle tab Diciamo che in questo momento Non ce ne frega un cazzo Noi vogliamo lanciare Una start up In una notte E quindi dobbiamo essere Molto ready to go Quindi adesso Tra un po' Facciamo il brindisi Però intanto Del brindisi Prima del brindisi Che cosa serve Per lanciare una start up Serve La customer base Ci serve A autenticare Gli utenti E quindi Ci beviamo Un goccio di moscato Installiamo Socialite Che è quello Che ci consente Di fare Loggare gli utenti Quindi gli diciamo Caro utente Hai un account facebook Clicca qui Ti piace giocare a basket Hai un account facebook Clicca qua Vai a finire nel database E diventi un utente Basketman Ok Come la famo Sta roba qua La famo In questi termini Nel senso Andiamo a togliere Un po' di roba inutile Che non ci serve No? Quindi vediamo Che cosa ci dà Questa home page Qua all'inizio Allora Sicuramente Tutta questa parte qua Delle statistiche Non ci interessa Ma ci potrebbe anche interessare Facciamo finta che la teniamo Quello che non capisco È perché Non ci sono le immagini Quindi andiamo a ragionare Un attimino Sul perché Non ci sono le immagini Cerchiamo di capire Dove le prende Ste immagini Le prende Qui Banner Banner Per esempio Abbiamo una cartella Upload Che non so se c'è qua Io non l'ho vista Quindi Public Frontend Images No upload C'è Upload C'è 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 Quindi banner Dovrebbe esserci Ah però vedi Qua bisogna cambiarla Copy Find Replace SRC Upload Upload Ok Vediamo Vediamo se è completa C'è sempre delle cose che mancano Ci ho aggiunto le iconcine Delle squadre Però la slider qua Non ce la prende Vediamo perché Facciamo un'ispezione Vediamo che cosa manca Ah mancano gli asset Javascript Mancano gli asset Javascript Ragazzi E questo qua è il problema Che mancano tutti i JS E mancano anche Degli Dei banner Ah vedi Vedi Qua Vedi Qua per esempio Ci manca questo Sicuramente Quindi ci manca un pezzo Ci manca Frontend Upload Adesso sicuramente Ci manca Poi ci mancano Tutti i Javascript Perché I Javascript Alla fine Come li aveva messi Li aveva messi Frontend 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 è giusto Però È giusto Perché dici che gli mancano Vabbè Vediamo di riaggiornare La pagina Oh cominciamo a ragionare Ragazzi Cominciamo a ragionare Nel senso che cominciamo ad avere delle immagini Cominciamo ad avere delle immagini Non ci sta caricando i JS Non so per quale motivo Perché comunque Sono giuste Le Le pet sono giuste Vorrei capire Perché non ci sta caricando Sti cazzo di JS Quindi Andiamo a vedere Perché non ci sta caricando Ma Secondo me Se ci sta caricando I I ICSS Ci deve caricare Per forza di cose Anche I JS Andiamo a vedere Dove Stiamo sbagliando Però Secondo me Ah Perché vedi che ce ne mancano Ce ne mancano Ragazzi E' quello lì il problema Perché non li abbiamo messi tutti Quindi Quello che dobbiamo fare E' andare a mettere Di tutti i JS Che mancano Quindi qua sopra Cambiando chiaramente La serie C Che deve avere La doppia virgoletta E non quella singola Perché se no Con la nostra sintassi Non va bene Questo a posto E tutti questi Qua mancavano Vedi Mancavano tutti questi JS E quindi lui Non funzionava RSX Per esempio Voilà 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 Qua va così Qua va così Qua va così E qua va così Perfect Secondo me ci siamo Vediamo Bene Aggiorna A sto punto Ci manca soltanto Una jQuery Migrate No ce l'abbiamo Abbiamo un errorino Del cavolo Ma credo che sia Vabbè Dovuto al template Nel mentre Noi abbiamo Il nostro Bellissimo Template Aggiornato Quindi Quello che Faremo noi adesso È modificarlo Un attimino Per i nostri scopi E Far sì Che Loggandosi Mettiamo qua Il menu Lo cambiamo Metteremo Soltanto Due o tre Voci Del tipo Accedi Abbiamo un logo Fighissimo Perché io avevo Già fatto un po' Di lavoro Su questa Presunta Startup No E avevo Per esempio Ti faccio vedere Su Facebook Avevo già La pagina Facebook Quindi Avevo già La pagina Facebook Basket Map Basket Map Avevo già La pagina Facebook Eccolo qui Avevo anche Un logo Della madonna Ragazzi Ma che figo Bello Questo logo Tra l'altro Nicola Venti Davvero Parto E Quindi Ci prendiamo Questo bellissimo Logo Perché ce lo Prendiamo E lo mettiamo Al posto Di quell'altro Va un pochettino Probabilmente È un logo Questo qua Che avevo Copia immagine Non modifichiamo In Photoshop Gli togliamo Il bianco attorno Lo facciamo Trasparente E lo usiamo Come logo Al posto di questo Che è fico No Quindi Basket Ma va Al posto di questo Ci abbiamo Il nostro loghetto Diventa una figata Pazzesca Ragazzi Quindi Facciamo questa Cosa qua E poi Qua A me basterebbe Soltanto Lasciando stare Tutta questa parte Qua Che non abbiamo Ancora Quindi tutta questa Qua è roba Che commentiamo Lasciamo Magari Le foto Instagram Lasciamo Il testimonio Lasciamo Sta roba Qua Però togliamo Tutta la parte Dei live Result E quello Che lasciamo È questa Sliderona Qui Con un po' Di scritte E con Join Now Accedi Ora E diventa Parte del team Quello che vogliamo Fare è fare Una landing Chiaramente Non possiamo Fare una startup Al 100% Partita E validata Ci Accontentiamo Di lanciarla Di fare Una Di fare Una Un bootstrapping Con La registrazione Di utenti Se All'una Le due di notte Di stanotte Riusciamo ad avere 20 utenti Io vado a letto Tranquillo Ok Questo è quello Che voglio fare Quindi Nuovo 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 Prendiamo Appunti Quindi Lo andiamo A prendere Da qua Coppia Immagine Coppia Immagine Nuovo Appunti Così abbiamo Le stesse Dimensioni L'oro Qua Lo togliamo Lasciamo Questo livello Qua Che cancelliamo Chiaramente Con la gommetta Cancelliamo Tutte Grosse Ma non Solo qua Dappertutto Quindi Ce lo Cancelliamo Prendiamo Prendiamo Il nostro In realtà Copia Immagine Photoshop Control V Control T Diminuisci E facciamo Questa Bellissima Cosa Qui No Ops Facciamo Così Lo possiamo Anche Togliere Da qui Benissimo Lo possiamo Ringrandire Perché Sprezzarlo Però Così E facciamo Così Voilà Lo portiamo Un po' Al centro Ed eccolo Qua File Esporta Rapida Come Png Logo Come si Chiamava Lui Scusa Non ho Capito Aspetta Che vediamo Come si Chiamava Sto Logo Qua Sala Immagine Con Nome Logo 1. Png Logo Logo Sala Quindi Esporta Logo Mettiamolo In una cartella Nuova Facciamo Una cartella Immagini Basket Map Nuova Cartella Basket Map Ok Logo Salva Ok Vediamo Dov'è La sua Location Organizzazione L'immagine Sarà Images Qualcosa Frontend Upload Logo E Frontend Upload Ci siamo Già Logo Abbiamo Detto Che Abbiamo Messo In Immagini Abbiamo Detto Che Abbiamo Messo In Basket Map Logo Quindi Questo Lo Pige Lo Sbatto Pa Dentro Sovrascrive Sicuramente Si Via E Quello Quello Facciamo Adesso Noi Farà Schifo Sarà Sgranatissimo Poi Mettiamo L'alta Risoluzione Però L'idea È Questa Vediamo Cioè Non vi Dico La Figata Nel senso È Più Bello Questo Di Quello Procedente Fa La Sua Porca Figura Considerate Che Questo Logo Qua Io Lo Feci Fare Su Freelancer Pagando Tipo 10 Dollari Quindi L'importante È Avere L'immaginazione Poi Il resto I capitali Verranno Dopo Successivamente Quando Avete Validato Avete Fatto Bene Facciamo La pausa Brindisi Adesso Poi Io Riprendo Tra Un po Verso Mezzanotte E un quarto Riprendo E Lanciato La nostra Startup Del primo Dell'anno Cominciamo L'anno Nuovo Con Basket Map Attiva E Che Avrà Almeno Speriamo I primi Dieci Utenti Ok Ci vediamo Dopo Ragazzi Spero Sia Stato Utile Finora Un Ultimo Dell'anno Un po Più Meno Scorregione Del Solito Ciao Ci vediamo Dopo Tra Un po Ciao Ciao Ciao